Durante la seduta del Consiglio Comunale di Melilli, svolto ieri, una ribellione particolare in aula. Una decina di bambini con mascherina bianca che coprive il naso e la bocca e un cartello in mano con su scritto «Voglio diventare grande» sono entrati e si sono schierati davanti ai consiglieri comunali melilesi. Un forte segnale da parte dei bambini per sensibilizzare l'amministrazione comunale a parlare dell'inquinamento provocato dalla zona industriale e quindi del loro futuro. Inoltre la manifestazione in aula dei bambini voleva anche sollecitare a prendere l'argomento riguardo al fuoriservizio di domenica scorsa della Versalis che ha provocato la fuoriuscita di fumi nauseabondi per il quale la protezione civile ha pure invitato la cittadinanza a chiudere le finestre di casa. Ma la presenza dei bambini in aula con il chiaro messaggio che hanno voluto lanciare non ha avuto nessuna considerazione ma ha provocato solo imbarazzo e indifferenza tra i consiglieri e gli assessori. Nessuno ha preso parola davanti ai bambini. Indifferenza che ha suscitato l'indignazione di tanti cittadini melilesi tra cui la dichiarazione di una cittadina donna in particolare che esprime rabbia per l'indifferenza data ai bambini proprio per il 19 marzo, festa del papà e San Giuseppe. Indifferenza quindi da parte di tanti padri di famiglia tra i consiglieri in aula presenti all'assise del Consiglio Comunale Melilese.